Che buon profumino! Ehi papà, voglio provare ad arrostire i marshmallow da solo! Va bene, provaci pure! E vai! D'accordo, mentre Coco arrostisce i marshmallow... Io mi riposerò un po'. Wow, hanno un aspetto delizioso! Ah, che profumino! Oh Freya, ne ho appena arrostiti un po'. Tieni, assaggiane uno! È davvero squisito! Fantastico! Che buon profumo! Perfetto, anche questi sono quasi pronti! Posso avere anch'io un marshmallow? Come? Vuoi assaggiare un marshmallow? Ok, dammi un attimo! Cos'è questo profumo? Bene, i marshmallow sono cotti a puntino! Wow! Che profumino invitante! Ne vorremmo anche noi! Scommetto che saresti un ottimo chef! E va bene, allora arrostirò tantissimi marshmallow! Bene, sono quasi pronti! Ciao, benvenuti! Ormai i tuoi marshmallow sono rinomati! Devi dirmi qual è il tuo segreto! Oh, devo essermi addormentato! Che cos'è questo buon profumo? Chissà come sono venuti i marshmallow! Deliziosi! Sono davvero spesiti! Posso fare per un altro! Hai arrostito tu i marshmallow per tutti, Coco? Sì! E dicono che sono deliziosi! Forse ho un vero talento per arrostire i marshmallow! Forse dovrei aprirmi un mio negozio di marshmallow! Di sicuro funzionerebbe alla grande! Piuttosto, sei riuscito a mangiarne uno! Oh, ero così preso ad arrostirli per gli altri che ho dimenticato di assaggiarli! D'accordo, li assaggerò ora! È davvero squisito! D'accordo, è davvero squisito!